Ecco, il celeberimo testo dell'Annunciazione, tante volte da questi microfoni commentato in qualche maniera secondo prospettive diverse, oggi ha una prospettiva che viene dal taglio, dato dalla prima lettura. In effetti, ci sono due discorsi più estesi dell'Angelo Gabriele a Maria. Le due parti conseguenti all'atturbamento di Maria, dopo il suo saluto, e alla domanda, come avverrà questo perché non conosco uomo. Nella prima risposta dell'Angelo, hai trovato grazia verso Dio, dice Gabriele, concepirai un figlio, lo chiamerai Gesù e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Ecco, è il richiamo ad una profezia. Questa profezia, nel settimo capitolo, nel secondo libro di Samuele, è la prima lettura di questa domenica, per cui la chiave è quella profezia. E vediamo un pochino, qual è il contesto di quella storia? Nel secondo libro di Samuele, nel capitolo settimo, c'è il momento in cui il re Davide è stabilito nella sua casa, cioè ha una casa che non è solamente la casa fisica, ha un casato, ha stabilito il suo regno, ha riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, e allora a quel punto parte una generosità nel cuore di Davide, che è la sua gratitudine al Signore che lo ha portato fino al soglio regale, in cui gratuitamente, per generosità e con l'aiuto di tante potenti grazie, lui è arrivato. E allora dice, ma io com'è possibile che abito in una casa bellissima, mentre l'arca di Dio sta sotto una tenda? Cioè, come può essere che il mio Dio sta più precario di me? E Nathan, il profeta che lo ascolta, è ammirato, dice, bello questo, va, fallo, il Signore è contento, accompagna, è un bel desiderio. Ma quella stessa notte, Nathan, il profeta, riceve una parola dal Signore, e questa parola fondamentalmente dice questo. Dì a Davide, ma che sei tu che costruisci una casa a me? Io costruirò una casa a te. Guarda qual è lo stato del nostro rapporto. Io ti ho preso dal pascolo. Io sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto i tuoi nemici. Ho fatto un'opera che appena all'inizio renderò il tuo nome grande, come quello dei grandi che sono sulla terra. E fisserò un luogo per il mio popolo. Io farò tante cose. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà lui a te una casa. Ecco, non sei tu che costruisci a me la mia casa. Sono io, dice il Signore. Lo dice a Davide, lo dice a ognuno di noi. Perché? Cosa è l'annunciazione? Noi siamo alle soglie del Natale, ci stiamo preparando a questo fatto dell'incarnazione, a questo fatto dell'incontro fra la carne umana e la divinità di Dio. Questo incontro meraviglioso che è nel corpo del nostro Signore Gesù Cristo, nella nascita di questo bimbo portatore del cielo sulla terra. Questa cosa che è la gloria, che è nell'alto dei cieli, sarà pace per gli uomini che sono sulla terra. Ecco, come avviene? Davide ha una iniziativa bella, ma le iniziative dell'uomo, per quanto belle, non saranno mai capaci di raggiungere questo. L'abisso che c'è fra noi e Dio è un abisso che solo Dio può avvarcare. La salvezza parte da Dio, non parte da noi. La redenzione parte da Dio, non parte da noi. Noi la accogliamo e tutto questo sta in questa storia di annunciazione ad una giovanetta che non è sposata, che è vergine e concepirà virginalmente. Attenzione! La vita di Dio si concepisce virginalmente, non nasce da seme umano. Ciò che è di Dio in noi, tutte le opere di Dio hanno un'origine virginale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che molto spesso quando noi seguiamo le nostre varie, confuse o meno confuse ispirazioni, quando noi facciamo le cose che facciamo, ci dobbiamo chiedere ma da dove è nato questo? Molto spesso è nato da una nostra ansia, da una nostra pulsione. Anche le pulsioni buone, perché nel caso di Davide stiamo parlando di una pulsione sacrosanta, bellissima, il profeta la guarda e dice ma che bella cosa che hai detto! Bravo! Mi sembra un'ottima idea! Le nostre idee, per quanto ottime, sono sempre solo le nostre idee. La vita bella nasce per iniziativa di Dio. Quando due fidanzali stanno discernendo se sono chiamati a matrimonio, devono riconoscere che nell'origine del loro rapporto c'è qualcosa di donato, di regalato. Quando un ragazzo si chiede se è chiamato a donarsi al Signore, deve chiedersi se questo non sia partito da una sua esigenza. Questa cosa lo metterà obbliguamente, perché darà a seme umano, a iniziativa umana, l'origine e il DNA di ciò che farà. Se una persona vuole fare una cosa bella, deve partire da Dio, non può partire da se stesso, o meglio, deve farlo partire Dio, deve riconoscere, accogliere, che la vita nuova si accoglie, non si genera, è impossibile, nessuno è salito al cielo forché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Il cielo ce lo apre Dio, il Natale è dono, è dono da accogliere, non è nostra iniziativa per quanto sacrosanta, buona, bella e presentabile. Quando la nostra iniziativa è figlia della gratitudine, è figlia di un'opera che Dio ha fatto con noi, ecco, quella cosa lì è bella, è benedetta, è profigua, è fegonda. Quando invece nasce dalla nostra carne, quante volte dobbiamo chiederci ma questo dove è nato? Dove nasce Gesù Cristo? Da cosa nasce Gesù Cristo? Gesù Cristo nasce dalla generosità di Dio. quante volte noi chiediamo a Dio di essere il nostro cappellano, gli chiediamo vieni qua e benedicimi questa cosa, vieni qua e butta un po' di acqua santa su questa cosa qui che è la mia e tu me la devi portare avanti, me la devi benedire. No, il Natale è sorprendente iniziativa di Dio, ha una forma, nasce la vita nuova dentro una vergine. Questa vergine è la terra buona perché nasca il seme sano, privo di zizzania, privo di confusione, autentico di Dio. Dobbiamo riconoscere le opere di Dio nella nostra vita, le sue irruzioni nella nostra esistenza, le sue iniziative con noi. La verginità non è una categoria né etica né semplicemente fisica, è una categoria esistenziale del rapporto con Dio. Le cose con Dio si vivono virginalmente, deve partire Lui, noi non ci possiamo dare la sua vita da soli. di Dio